Siccome stavano girando questo film il regista ha detto ma Biglino lo potremmo magari usare per fare il procuratore Vigna e così ho fatto quindi questo cameo, il procuratore Vigna, abbiamo appena finito di girarlo insomma è stato divertente, è stato un gioco e quindi molto volentieri l'ho fatto come tale appunto Venendo alla sua attività invece è uscito di recente un titolo forte che lascia intendere tutta una serie di concetti in parte già anticipati anche in altri volumi però quali sono le novità principali di quest'ultimo? Il libro si intitola Resi umani ed è molto efficace nel senso che indica appunto come noi da animalucci quali eravamo siamo stati resi Homo sapiens e questo vale sia dal punto di vista proprio biologico quindi dal punto di vista genetico sia dal punto di vista antropologico culturale e questo libro sta veramente destando grande interesse perché ci è stato richiesto dalla Harvard Medical School che è l'istituto di ricerca dell'università di Harvard perché hanno detto che è bene che lo leggano studenti e ricercatori tra l'altro pensiamo a circa 50 anni fa, 60 anni fa già il direttore del dipartimento di antropologia della Drew University che era il professor Westcott aveva scritto un libro che si intitolava The Divine Animal cioè l'animale divino e aveva già scritto che noi siamo appunto una specie addomesticata e che ad addomesticarci sono stati altri arrivati da altre parti di fatto rappresenta un po' una continuazione di quel lavoro alla luce ovviamente di altri 50-60 anni di acquisizioni dal punto di vista sia scientifico sia storico Sono tesi che fanno sempre molto discutere perché costringerebbero a rivedere un po' tutta quella che è l'ufficialità della scienza Ah ma questo bisogna farlo comunque basta pensare che Wallace che era il collaboratore di Darwin quello col cui Darwin ha scritto l'origine delle specie che è stato pubblicato dal 1869 dieci anni dopo Wallace scriveva a Darwin dicendogli guarda io la nostra ipotesi riesco ad applicarla sostanzialmente un po' quasi tutti gli esseri viventi ma con l'uomo non funziona con l'uomo non funziona e tant'è che appunto i genetisti anche dicono che il processo di speciazione che ha portato all'homo sapiens in particolare il processo di encefalizzazione non è spiegabile con il darwinismo e quindi ci deve essere qualcuno che è intervenuto e questo appunto tra creazionismo e darwinismo c'è questa terza ipotesi che è l'interventismo Tanti temi come questi vengono affrontati nelle sue conferenze in giro per l'Italia ce ne saranno anche presto proprio da queste parti Sì 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 infatti adesso vabbè chiudo diciamo luglio con Olbia in Sardegna e dopodiché riprendo a metà settembre ci sono appunto Livorno, Bologna eccetera ma ovviamente essendo qui in casa ricordiamoci che il 6 di ottobre sono a Cremona e il 7 sono a Piacenza e quindi ci vediamo presto Grazie